Un pomeriggio di festa con i ragazzi delle educative territoriali si è tenuto oggi al centro di Urno Don Bosco. L'evento è stata occasione di confronto e socializzazione per numerosi ragazzi di tutta la città che sono stati impegnati in giochi, tornei e diverse attività laboratoriali. La scelta della data non è casuale, oggi è il 31 gennaio, è la festa di Don Bosco che come tutti sappiamo è il santo dei giovani. Allora come salesiani abbiamo deciso di voler festeggiare non solo con i nostri ragazzi, con i centinaia di ragazzi che quotidianamente frequentano il nostro centro, ma di invitare tutti i ragazzi dei centri di Urni e delle educative territoriali della città di Napoli. Perché siamo convinti che fa più rumore un albero che cade che una foresta che cresce, però c'è veramente una foresta che cresce fatta di ragazzi e di tanti educatori che scommettono sull'educativo. È su questo che noi stiamo puntando, sul rafforzare anche quelle che possono essere le competenze dei nostri ragazzi che ancora non riescono a riconoscere in se stessi tutte quelle potenzialità che invece hanno. È su questo che noi continuiamo a lavorare quotidianamente. È un'occasione di festa quella di oggi, ma è anche un'occasione per continuare a ripensare delle politiche che rispondano veramente alle esigenze dei nostri ragazzi. Credo che più di Baby Gang si possa parlare invece di organizzazioni di ragazzi e di bambini che riescono anche a dare una risposta diversa a quello che invece oggi viene rappresentato.